ciao a tutti buongiorno vedo che vi state connettendo questo nostro primo webinar diamo un attimo la lista che scende benvenuti benvenuti a tutti buonasera ciao credo mi sentiate voi così assolutamente ma io non vi vedo siamo qua in questa stanza ma vedo che state comparendo quindi come mi scrive vi sentiamo buonasera a tutti bene bene ecco comincio a spiegare questa cosa interessantissima nel senso che l'unico modo che abbiamo per comunicare è legato a questa chat quindi tutti quanti voi in basso tra quei tasti che avete la sotto avete una parte che dove c'è una nuvoletta dove dice chattare e da lì se volete potete comunicare fare domande scrivere cose scrivere saluti se volete potete anche provarla adesso mentre aspettiamo gli altri controllare che tutto funzioni perfettamente scrivere ciao non ciao potete anche alzare la mano cioè ci sono una serie di cose che si possono fare ecco ti sentiamo ciao tutto funziona ottimo ecco qualcuno sta scrivendo in questo caso ai panelisti che c'è questa nuova terminologia inserita che si dice i panelisti sono quelli che parlano e poi c'è anche però l'opzione che potete scrivere i panelisti e gli spettatori quindi scrivete a panelisti ovviamente li vediamo solo noi che siamo qui il nostro ospite anche al momento nell'ombra se invece scrivete a panelisti e spettatori vi vedono anche tutti gli altri ciao benedetto ciao giulia ciao raffaella benvenuti allora io per portarci avanti un attimo con i tempi così intanto arrivano tutti quanti voi sapete tutti che siete qui perché credo che abbiate già tra le mani questa guida che si chiama parlare con gli adolescenti in teoria dovreste averla già tutti quanti da voi a casa oppure se l'avete ordinata ci sta piegando un po di più di tempo a fare strada arriverà comunque dovreste quasi averla ricevuta tutti quanti o la state ricevendo insomma in questi in questi giorni e volevo subito vedere un po con voi che è una cosa importantissima di questa di questa guida che ci siamo un attimo vediamo se lasciamo vederlo ok dovreste vedere questo sito appunto rischiamo a parlare con gli adolescenti c'è già scritto nella guida ma ci teniamo un po a farlo sapere insomma ricordarlo che questo lavoro questo progetto che abbiamo fatto è un progetto che non vuole essere solo un libro un libretto chiamano così quindi sono una guida ma è qualcosa anche che ci siamo impegnati a rendere accessibile anche al di là di questa guida con questo sito che appunto è un sito per tutte le figure educative sempre legato agli adolescenti dove siamo andati a mettere una serie di approfondimenti che potete trovare sull'identità cioè su quelle che sono di fatto le tematiche che abbiamo messo in questa guida di parlare con gli adolescenti perché ci interessava dare un'apertura a queste tematiche quindi non ci bastavano le pagine abbiamo detto mettiamo altri materiali sono materiali che non sono necessariamente nostri la maggior parte non lo sono ma sono appunto dei materiali che abbiamo recuperato in giro perché spesso quando si cerca di formarsi di prepararsi per parlare con gli adolescenti o comunque di formarsi su una materia spesso i pezzi sono un po divisi di qua e di là allora abbiamo cercato di fare questa piattaforma questo sito per raccoglierli insieme e per dare un po con continuità dei riferimenti quindi se voglio sapere cosa capita appunto quando parlo di identità con gli adolescenti cliccando su queste su questi capitoli vado ad entrare in alcune altri in alcuni altri suggerimenti che non sono solo sulla guida quindi ci sono libri suggeriti articoli da leggere podcast altri libri ci sono dei video quindi ecco entrando in tutte queste parti del del sito si scoprono un po questi questi materiali aggiuntivi che assolutamente vi consigliamo di andare a vedere io direi che siamo un po ci siamo tutti benvenuti anche agli ultimi che sono entrati poco fa come sapete se siete qui abbiamo deciso di aprire un po questa di ringraziare in qualche modo voi che ci avete sostenuti con il pre order di questa guida che per noi è stato comunque un bel modo di lanciarci su un nuovo progetto su qualcosa che ci appartiene da molto tempo quindi tutto il lavoro con gli adolescenti con i giovani abbiamo deciso un po di metterlo in questa guida ma abbiamo anche deciso di fare degli incontri delle interviste con degli ospiti che sono secondo noi degli esperti che sono secondo noi le persone che ci possono dare uno sguardo sicuramente diverso da quello di anima giovane quello della nostra esperienza anche pratica nel senso della sulla pratica abbiamo fatto una guida attiva volevamo avere delle persone che che ci parlassero di un aspetto degli adolescenti che forse non vediamo tutti i giorni e quindi abbiamo appunto deciso di invitare queste persone a parlare io oggi farò un po da tramite da interfaccia con il nostro ospite e cercherò di mettere giù un po le le domande per fare un po un percorso però sicuramente tanto avrà da dircelo loro da dircelo lui ed è per questo che lo ascoltiamo come già vi anticipavo prima è un momento interessante anche per fare delle domande quindi se nella chat che vedete al fondo tra i bottoni volete fare delle domande al nostro ospita fabio di oggi è interessante appunto scriverlo in questa chat potete scrivere liberamente durante tutta la durata dell'incontro oppure alla fine possiamo fare un attimo un'ultima chiamata per le domande comunque se volete scrivere nel frattempo le raccogliamo e cerchiamo così di tracciare un percorso con il nostro ospite di vedere ed io chiamerei a questo punto fabio geda tra noi che ci segue da ecco 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 fabio ciao ciao benvenuto mentre parlavi della tua guida mi sono premonito di controlliamo che sia la stessa comunque dovrebbe funzionare ottimo che bella questa cosa bellissima vederla tra le tue mani è anche interessante perché ci possiamo confrontare così noi in realtà come dicevo vogliamo confrontarci più su su di te in realtà oggi però adesso vediamo perché poi appunto le cose spuntano un po fuori nei discorsi e e sono sempre interessanti ecco io partirei subito perché qua abbiamo c'è un po di domande io ho deciso di aiutarci in queste domande da questo da delle delle scritte delle frasi di alcune sei colpevole responsabile in prima misura perché hai questo compito di scrivere scrivendo le cose rimangono in giro è appunto scritta manent ed è qui e quindi comincio da questo questo è un libro appunto di fabio geda si chiama l'esatta sequenza dei gesti e proprio nella dedica del libro proprio all'inizio di tutto quanto c'è scritto questo a tutti gli educatori per il lavoro che fanno per ciò che li anima e per la loro caparbietà ed hai deciso un po questo aspetto della caparbietà di prenderlo come come punto di vista sull'essere educatori e questo ci dà un po un aggancio per dire di te che prima di essere scrittore prima di diventare uno scrittore consolidato come sappiamo che sia adesso sei stato un educatore anzi o sei stato forse anche insieme cioè c'è stata una fase di convivenza anche fra queste parti quindi ci piaceva un po l'idea che raccontassi un po che tipo di educatore sei stato nel senso che educatore si può essere in mille modi tu forse ne hai anche scondati alcuni quindi ci piaceva un po sentire da te che tipo di educatore sei stato e perché sei stato perché hai deciso di essere un educatore insomma ma guarda c'è un aspetto vocazionale molto forte in questo mestiere mi sembra evidente non è una cosa che che scegli di fare a meno che tu non ti senta chiamato a farlo anche perché poi come dici tu puoi farlo in molti modi diversi in molti ambienti diversi con età differenti quindi anche in questo senso c'è un aspetto vocazionale no che nasce io immagino quasi sempre da alcune esperienze positive che si fanno io ad esempio io ho fatto scautismo per moltissimi anni la mia esperienza educativa nasce nasce nella gesci e nei nei miei anni di a gesci mi sono concentrato soprattutto sulla fascia dei dei più piccoli non so se c'è tra i nostri ospiti qualcuno che ha familiarità con il mondo scout però insomma forse sapete che i più piccoli si chiamano lupetti coccinelle no la branca lc che hanno tra gli otto e gli undici anni io per anni ho pensato che che quella fosse l'età più bella con cui lavorare e infatti per moltissimi anni mi sono dedicato a loro poi è successa una cosa completamente diversa cioè nel mi stavo laureando mi stavo laureando dovevo erano era la fine degli anni 90 quindi c'era ancora l'obbligo di servizio militare o servizio civile e decidendo di fare loro l'obiettore di coscienza mi sono ritrovato a venaria allora toglie san francesco a lavorare in cortile soprattutto con adolescenti e lì mi si è spalancato un mondo nel senso che ho scoperto che forse perché anch'io banalmente no come dire che la c'è visto che la differenza di età cominciava a essere una differenza importante lavorare con un sedicenne con un quindicenne con un diciassettenne è una cosa diversa se hai ventotto anni piuttosto che non se ne hai ventidue voglio dire è ancora diversa se ne hai 35 o se ne hai 40 no a seconda che tu sia più fratello maggiore più amico più genitore e lì mi si è aperto un mondo e io non sono più riuscito a a tenermene fuori dalla dall'esperienza di venaria all'oratorio sono passato direttamente san salvario in un altro oratorio salesiano l'oratorio san luigi che però in quel periodo viveva una esperienza molto strana di oratorio laico cioè non c'erano non c'erano salesiani in cortile nel senso che l'oratorio intero era in mano a Sergio Durando che è l'attuale direttore della Caritas Migranti e a un gruppo di educatori di cui facevo parte io a quel punto già in modo semi professionale anche se mi stavo laureando in scienze della comunicazione quindi una cosa che non c'entra assolutamente nulla con quello che poi stavo facendo ma capita tanti educatori questo quindi capita tanti educatori questo di partire da una parte poi e poi da lì è successo per chiudere la parabola e quindi riassumere molto brevemente il percorso è successo che a un certo punto una cooperativa sociale che si chiama cooperativa valpiana che all'epoca aveva sei comunità alloggio per minori quattro in collina appunto in strada valpiana no nella zona di corso quintino sella largo tabacchi no sopra sassi e e poi altri due comunità in zona san donato quindi erano sei forse addirittura le comunità mi disse che c'era un posto libero per educatore in una delle loro comunità e pur pur non avendo io le le qualifiche per farlo perché io non ero laureato no in nulla che mi permettesse di fare davvero l'educatore loro mi dissero non preoccuparti all'epoca c'era la possibilità non so come sia oggi di fare la riqualifica si chiamava così e quindi io cominciai a lavorare in cooperativa in comunità alloggio dove ho lavorato dieci anni cioè dal 2000 al 2010 ed è stata un'esperienza incredibile nel senso c'è un'esperienza che poi mi ha mi ha segnato sotto molti punti di vista anche quello narrativo ovviamente sì dico infatti un breve inciso ovviamente fabio tutti questi luoghi che sta nominando fanno parte di torino perché fabio devi sapere vedo un po dalla lista che ci sono persone che ci stanno ascoltando dall'umbria dalla siciliana davo per scontato siamo a torino insomma però ecco sì sì sono sono posti che qualche modo sono da vedere allora ecco quindi dicevi questa parte qua appunto sicuramente ti ha ti ha segnato in qualche modo anche dal punto di vista narrativo e io infatti ho la seconda la seconda citazione qua da da vedere per per fare un'altra domanda che è questa Anna Arendt scriveva l'educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo dalla rovina questa è un'interpretazione no dell'educazione tu l'hai questa questa educazione questo essere educatore come dicevi lo sei andato un po a trascinare in altri in altri contesti nel contesto narrativo quindi la domanda è questa un po questo tuo educatore fabio gede educatore come interviene nelle trame dei dei romanzi che scrivi nelle pagine che scrivi nei monologhi tutto quello che che fai ma guarda la prima cosa che lega il mio lavoro precedente quindi dieci anni in comunità alloggio per minori e invece questi altri dieci anni perché sono esattamente dieci trascorsi a fare esclusivamente lo scrittore direi che è l'ascolto nel senso che io sono uno scrittore che si che che fonda molto ciò che scrive sull'ascolto in certi casi proprio sull'ascolto delle storie delle persone il caso di naiatollak bari e di nel mare ci sono i coccodrilli e ovviamente quello più limpido da questo punto di vista nel senso che mi sono messo proprio in ascolto profondo della storia di un ragazzo di una persona di un ragazzo afgano e l'ho raccontata in un libro e poi adesso anche in un secondo libro perché a dieci anni di distanza abbiamo deciso di continuare a raccontare la sua vita ma in realtà l'ascolto è è qualcosa che che prescinde addirittura poi la il tipo di storia che io racconto io mi metto in ascolto profondo dei miei personaggi anche se invento la storia non cambia molto in questo senso e e io credo di aver affinato la mia capacità di ascolto in comunità perché ovviamente chi ha esperienza di comunità alloggio sa che in comunità si fanno un sacco di cose no si fa da mangiare si fanno le lavatrici si porta i ragazzi ad allenamento di calcio in luogo neutro a incontrare le famiglie e si fanno un sacco di robe molto quotidiane ma soprattutto lì si ascolta perché poi c'è quello che un educatore è chiamato a fare io credo più di qualunque altra cosa e prendere in affidamento la storia la memoria la storia dei propri ragazzi ricomporla no pulirla metterla in ordine cucire quei pezzi di storia che loro magari ti regalano in un tempo lunghissimo e magari nei momenti meno in cui meno te l'aspetti no perché anzi molto molto raramente le cose importanti della loro storia i ragazzi te le rivelano seduti di fronte uno di fronte all'altro quando dici ora parliamo no è più facile che te le riveli no magari mentre sei in cortile a giocare a basket o mentre sei a far la spesa o mentre sei sul furgone no di rientro da una partita di calcio ecco quindi io per anni come dire mi sono allenato no a raccogliere questi brandelli di storie che sentivo attorno a me ricucirle per poi fare cosa per poi riraccontarle ai miei ragazzi modo che loro potessero guardarle dall'esterno riconoscersi in quelle storie che io raccontavo e che erano le loro storie e magari addirittura farci pace no fare pace con la propria storia personale non c'è nessuna storia difficile da raccontare come la propria storia personale a noi stessi tutti noi abbiamo bisogno di rispecchiare le nostre storie eh nello sguardo di qualcun altro quindi questa come dire piccola competenza nel mettermi in ascolto profondo dei particolari delle storie dei miei ragazzi è qualcosa che poi ho trascinato nei libri che scrivo sì anche nei personaggi in qualche modo sappiamo che ci sono tanti educatori che compaiono nelle tue trame ma soprattutto sappiamo anche che compaiono dei compaiono adesso non so se compare lo schermo che sto cercando di mettere mi sa di no ma adesso ce la farò compaiono dei degli adolescenti sì quindi gli adolescenti ci sono questa è la terza frase quella più lunga quindi perdonatemi ma c'è augusto polmona palmonari che appunto uno psicologo scrive che la nozione di adolescenza sembra chiara e comprensibile a tutti nel linguaggio comune sta a indicare un periodo di vita compreso tra la fanciullezza l'età adulta durante il quale nella persona si verifica una serie di cambiamenti radicali che riguardano corpo mente comportamenti ma se si vuole andare al di là di una comprensione generica e superficiale del fenomeno ci si accorge che persino tra gli studiosi i punti controversi sono assai più numerosi di quelli condivisi questo lo sappiamo bene lo sanno in tanti che sicuramente si trovano davanti degli adolescenti infatti noi abbiamo pensato di chiamare questa guida parlare con gli adolescenti e non parlare con l'adolescenza perché l'adolescenza è molto molto strana eccetera invece sappiamo che gli adolescenti sono ben più specifici sono ben più come in realtà ognuno di noi siamo tutti quanti diversi ma nell'adolescenza ancora più accentuato questo aspetto quindi la domanda che ti faccio è questa tu hai scritto hai coscritto un coautore di una saga per ragazzi che si chiama berlin in questa saga gli adolescenti sono protagonisti ci sono questi adolescenti dai 14 a 19 anni che sono i protagonisti proprio della storia e questa saga questi libri sono pensati per gli adolescenti quindi la domanda che ti vogliamo fare questa mettere in scena degli adolescenti con la premessa di che abbiamo appena letto cioè che è difficile capire chi sono questi adolescenti vuol dire che tu ti sei fatto un'immagine di questi adolescenti pensato a che sogni hanno che bisogni che desideri e allo stesso tempo avrai pensato gli adolescenti che leggeranno di questi adolescenti che invece sono nella storia che cosa hanno bisogno di sentire di leggere da quelle pagine quindi un po la domanda duplice è questa che idea ti sei fatto degli adolescenti per rappresentarli nel libro e che idea hai degli adolescenti dal punto di vista di che cosa hanno bisogno di leggere in quei in quei libri ma allora sai anzitutto partiamo dalla parte come dire dall'aspetto letterario la letteratura funziona in modo particolare quando mettendo in scena come dire appunto il particolare scusate il bisticcio di parole riesce a dialogare con universale no e quando in qualche modo va oltre le le mode del del momento o quelle che sono magari le emergenze percepite del momento no perché sennò poi sono libri che solitamente invecchiano molto in fretta ecco invecchiano molto in fretta e quando si parla di adolescenza però a me piace sempre sottolineare come negli ultimi 40 50 anni io non credo che il cuore pulsante dell'adolescenza sia così profondamente mutato è mutato il mondo attorno all'adolescenza è mutato è mutata la tecnologia dentro cui l'adolescente è immerso e quindi sono sono mutate alcune dinamiche ma i bisogni fondamentali no dell'adolescente che sono soprattutto bisogni di carattere identitario quindi chi sono il rapporto con il mio corpo il rapporto con la mia mente il rapporto con i miei sogni il rapporto con la mia presenza nell'ambiente ok con chi è più piccolo di me con chi ha la mia età il rapporto con l'altro sesso il rapporto con chi è più vecchio di me c'è quelle cose lì sono sostanzialmente sempre le stesse sono le stesse da moltissimo tempo da quando gli adolescenti hanno cominciato a essere a essere tali e comunque sappiamo che l'adolescenza è una questione novecentesca perché prima vuol dire prima non c'era l'adolescenza prima eri bambino e poi diventavi adulto subito basta ma cioè nel momento in cui si è cominciati a dire no ok ma c'è dall'infanzia all'adultità in mezzo c'è qualcos'altro e si è cominciati a declinare quel momento ecco da quel momento in poi diciamo dal dopoguerra in poi il bisogno dell'adolescente no è molto simile se uno va a rivedere a rileggersi ad esempio un grande classico della letteratura per la per l'adolescenza scritto per lettori molto giovani che i ragazzi di la cinquantaseiesima strada no da qui coppola trasse un film straordinario negli anni ottanta credo negli anni ottanta e quello era un libro degli anni settanta scritto da una ragazzina giovanissima all'epoca che aveva tipo 17 18 anni beh come dire uno riconosce in quegli atteggiamenti in quei discorsi nell'animo allo stesso tempo violento ribelle ma anche profondamente poetico tipo di voi il protagonista ecco riconosce in quegli adolescenti molti dei nostri adolescenti di oggi quindi quella cosa lì secondo me non cambia e quando stai dentro a questo come dire all'anima assoluta diciamo così no dell'adolescente ecco che difficilmente sbagli difficilmente sbagli i libri peggiori che parlano di adolescenza secondo me sono quelli che invece che affrontare i temi assoluti dell'adolescenza cercano di catturare il momento no cercano di mettere in scena l'adolescente di oggi e allora magari provano a imitarne lo slang provano a imitarne le dinamiche e spesso con atteggiamenti più giovanilistici che non invece come dire sinceri e universali e allora lì il rischio di sbagliare è molto molto alto ok quindi sì il mondo intorno che ho risposto alla tua domanda o se ho divagato allora no 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 non hai divagato è che hai dato una macro risposta che secondo me ha coperto entrambe entrambe le fazioni dicevamo come ti sei come hai pensato agli adolescenti per rappresentarli nella trama e allo stesso tempo come che cosa hai pensato che gli adolescenti che leggevano non ci volessero vedere in quelle pagine lì ma secondo me la risposta l'hai data una cosa che tu dici che voi dite in nel vostro libretto e che ho molto apprezzato cioè voi dite a noi piace parlare di adolescenti non di adolescenza perché l'adolescenza in qualche modo suggerisce una omologazione no che invece non c'è ecco io non sto parlando di omologazione è molto importante questo ok sto parlando di universalità certo dire dei della dell'anima della dell'adolescente ciò non vuol dire che gli adolescenti sono omologati sono tutti uguali anzi sono tutti diversi ma perché esprimono in modi diversissimi però le la stessa ricerca gli stessi bisogni la letteratura uno deve deve riuscire a entrare nella singolarità dell'adolescente quindi non cercando di mettere in scena un adolescente tipo no ma un un unico personalissimo adolescente ma se poi quella quella le domande che si fa quell'adolescente sono quelle domande universali che da sempre si fanno gli adolescenti ecco che molto probabilmente la messa in scena la messa in scena funzionerà riesce a parlare a tutti gli adolescenti esatto bene sì sì ecco infatti noi le abbiamo chiamate tematiche le abbiamo chiamate filoni però si sono proprio un po quei macro temi che sappiamo che trasversalmente riguardano tutti loro e che poi ognuno di loro va ad affrontare in un modo specifico insomma siamo già alla quarta domanda qua vabbè ebbè qua cadiamo in piedi proprio ebbè parliamo di scautismo lo dico per chi non lo sapesse so che ci sono scout anche in chat che ci seguono da lì ma c'è anche tutta un'altra parte che invece ci sono queste fazioni tra scout non scout comunque baden powell è il fondatore dello scautismo scriveva questo anche nel peggior carattere c'è il 5 per cento di buono il gioco consiste nel trovarlo e quindi nello svilupparlo fino ad una proporzione dell'ottanta novanta per cento che comunque una percentuale l'ottanta novanta per cento a cui arrivare è sfidante il 5 per cento di buono sappiamo che in qualche modo spesso magari ci sono delle situazioni più difficile notarlo ma c'è una c'è un passaggio e penso che tutti quanti noi in qualche modo abbiamo visto questo in maniera più o meno diretta la domanda legata a questo che che appunto questa frase di baden powell è un po la relazione con gli adulti che nel quale nel uno dei delle tematiche di questa guida è proprio il rapporto con gli adulti io mi aggancerei per questo rapporto a questo tuo romanzo il più importante penso più famoso penso che tu abbia scritto che nel mare ci sono i coccodrilli che prima tu già anticipavi che ha visto da pochissimo da pochi mesi un sequel dieci anni dopo che appunto racconta questa storia di come non c'è dall'afghanistan c'è questo ragazzo che deve in qualche modo raggiungere l'italia perché sa di dover arrivare in italia e gli viene raccontato di fare attenzione perché quando dovrà superare il mare ci sono i coccodrilli e la domanda che vorrei fare adesso a te questa quali sono i coccodrilli veri degli adolescenti cioè i pericoli che possono essere quelli di oggi quelli di ieri o quelli di sempre insomma anche rispetto alla risposta che ci hai appena dato quindi quali sono i coccodrilli diciamo quelli più pericolosi sono quelli più pericolosi secondo te insomma ma soprattutto che cosa possono e devono fare gli adulti per aiutare gli adolescenti a combatterli questi coccodrilli ma allora guarda anzitutto mi mi permetti di entrare nello specifico dell'idea di coccodrillo così come l'abbiamo evocata nel titolo di quel libro tutto nasce da una un passaggio di quella storia sulla sulla costa della turchia ad aivalik ci sono cinque preadolescenti afghani tra gli undici e quattordici anni che devono con un gommone attraversare quel tratto di mare che separa la turchia da lesbo che la più vicina delle isole greche e a certo punto il più piccolo si mette a piangere dice che non vuole partire perché ha paura dei coccodrilli che evidentemente tra tutti i pericoli possibili di quel momento era l'unico che che non c'era nel senso cioè poteva avere paura di qualunque altra cosa no dell'acqua ovviamente banalmente visto che erano tutti i ragazzini afghani che non avevano mai visto il mare vita loro e neanche sapevano nuotare la guardia costiera no cioè qualunque cosa ma non i coccodrilli quindi il senso della parola coccodrillo nel titolo sta proprio a significare il pericolo all'ennesima potenza cioè il per il più grande pericolo tra tutti i pericoli è avere paura del pericolo sbagliato perché nel momento in cui tu riconosci i pericoli allora puoi no sperare di di conoscere le strategie utili a evitarli a affrontarli e via dicendo ma se tu non li conosci pericoli e addirittura hai paura dei pericoli sbagliati come succede nella primissima infanzia no quando magari i bambini hanno paura del buio del mostro nell'armadio per cui dormono con la lucetta accesa però poi sono capaci di arrampicarsi sul muro altissimo attraversare la strada di corsa dietro un pallone perché non hanno la percezione del pericolo vero che è data dalla macchina o che so io o dall'altezza e invece tutti i loro pericoli sono pericoli di fantasia sono pericoli misteriosi sono pericoli trascendenti in qualche modo ecco quindi quali sono i grandi pericoli degli adolescenti oggi ecco io penso che siano ancora questi c'è sia siano come dire i pericoli sbagliati nel senso che il più grande pericolo per un adolescente e non aver il più grande danno per un adolescente non aver avuto accanto un adulto capace di presentargli il mondo capace di svelarglielo di spiegarglielo di accompagnarlo in quelle nell'esplorazione di quel territorio che si chiama libertà no è che poi lui dovrà abitare da solo insomma con le proprie scelte con le proprie con le proprie decisioni questo mi sembra davvero il pericolo più 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 grande stando ovviamente sui macro sistemi e poi come dire possiamo entrare come dire e guardare nello specifico nella vita di un adolescente oggi i mille pericoli che soprattutto una certa una certa tecnologia sta come dire ponendo di fronte a loro il leggere attraverso uno schermo tutta una serie di piccole cose molto tecniche però adesso io stavo come dire un po sul sul macro e e e quindi come dire come come si fa a a far sì che un adolescente non si trovi spaesato di fronte al pericolo cioè non non incontri un pericolo che nessuno gli ha mai presentato un pericolo di cui nessuno gli ha mai parlato per cui lui non non solo è fragile nell'affrontarlo ma ma neanche ma neanche lo riconosce ecco come si fa questa cosa qua ma a me viene da dire non non c'è una ricetta non c'è una bacchetta magica bisogna stare dentro la relazione con loro con gli adolescenti voi avete intitolato i libretti il libretto parlare non agli adolescenti o di adolescenti ma con gli adolescenti perché effettivamente mi viene da dire in quel con c'è la soluzione a tutti i problemi cioè sarebbe bello ci fosse la soluzione non è così ma è bello immaginare che in quel con c'è in quel camminare insieme camminare accanto che di nuovo è un concetto molto eh molto da scout no che 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 fonda parte della sua pedagogia sul fratello maggiore che cammina accanto al fratello minore ecco quel quel camminare insieme accanto con eh io credo sia il luogo della salvezza se c'è salvezza bene siamo all'ultima domanda che ho preparato poi quindi questo lo dico più che per te lo dico anche per soprattutto per chi ci sta seguendo quindi se volete cominciare a scrivere altre altre domande se volete aspettare l'ultima e poi sbizzarrirvi sappiate che siamo all'ultima domanda impostata in qualche modo e poi vediamo un po' che cosa arriva dal dal pubblico da casa torniamo abbiamo aperto e chiudiamo con una frase che è scritta da te nel libro la bellezza nonostante tu scrivi senza sarà in realtà possiamo anche non spiegarla la storia perché in realtà mi piaceva un po' vedere questa cosa che tu hai scritto sul lavoro e appunto diciamo le persone che fanno bene il proprio lavoro qualunque esso sia a qualunque cosa conduca a prescindere dalla quantità di gente che godrà del loro impegno della loro passione amo il lavoratore un lavoratore coscienzioso perché migliora la vita di tutti la sua la mia lavorare bene è un modo per dare senso al tempo e per capire qualcosa sempre troppo poco di sé questa è una una frase che abbiamo messo lì per agganciarci appunto come dicevo all'ultima domanda che è legata a un'altra tematica che abbiamo messo in questa guida che la tematica emblematica del futuro e in questa guida nello specifico abbiamo un po' declinato nella parte del che cosa farò da grande del che lavoro che è veramente chi voglio essere da grande ma su questo aspetto proprio del lavoro mi piaceva un po' ricollegarci a a te quindi al tuo lavoro questa cosa che già in parte un po c'è descritto e curiosi curiosi un po di sapere che cos'è che ti senti di estrapolare dalla tua esperienza tu sei diventato uno scrittore e il tuo lavoro è quello che tu fai e c'è stato un momento della tua adolescenza un momento della tua vita in cui questa parte qua quindi la scrittura diciamo si è affacciata tu l'hai colta che cos'è che ti ha aiutato a renderla fattibile come a renderla realizzarla come un mestiere vero e proprio o chiedo appunto se puoi estrapolare questa questa esperienza qua un po per capire che cosa c'è bisogno di dire agli adolescenti per aiutarli a tirar fuori quello che saranno loro da grandi quindi c'è un po un parallelismo sì ma guarda allora effettivamente come dire c'è il mio percorso contiene in qualche modo una possibile risposta alla domanda che spesso i ragazzi mi fanno quando l'incontro nelle scuole o in altre situazioni cioè come ci consigli di di porci nei confronti del futuro e e la mia risposta è sempre che secondo me bisogna mantenere oggi più che mai un piede nel sogno è un piede nella realtà cioè mai abbandonare il sogno la passione ciò che ci scalda no la curiosità la vocazione però poi contemporaneamente saper essere anche abbastanza pragmatici da riconoscere come dire da 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 sapere che può anche darsi che magari il lavoro dei nostri sogni non arriverà mai non riusciremo davvero mai a farlo così come sogniamo sogniamo di farlo ora io io ho fatto il liceo scientifico e io al liceo sognavo di fare qualunque lavoro avesse a che fare con la narrazione io amavo la musica amavo il cinema amavo la fotografia la letteratura il teatro e ho fatto di tutto alle superiori in questo campo no ho provato a imparare a disegnare perché adoravo il fumetto ma sono un pessimo disegnatore quindi subito abbandonato ho fatto tre anni di corso di di teatro che si teneva proprio nel mio liceo di pomeriggio ma mi sono reso conto di essere un pessimo attore quindi non avrei avuto sicuramente un futuro suonavo la chitarra in un gruppo provavo a comporre canzoni ma sono un pessimo musicista quindi sicuramente anche lì non si nascondeva la chiave del futuro la scrittura invece è stata qualcosa che c'è con nella scrittura ho pensato forse questa roba qui possa continuare a praticarla no senza davvero concedermi di sognare che da grande avrei fatto lo scrittore però mi sono detto nella scrittura c'è uno spazio di libertà di gioia mia personalissimo anche uno spazio di sogno proprio no cioè il sogno un giorno a 30 anni a 40 anni a 50 anni a 80 anni non importa di scrivere una cosa che poi magari qualcuno avrà voglia di pubblicare che magari la gente avrà voglia di leggere e poi come dire preso atto di questo sogno che mai avrei abbandonato e che infatti ho coltivato caprabbiamente io le prime cose che ho scritto le ho scritte a 14 15 anni ho pubblicato il primo libro a 34 quindi per vent'anni di fatto io ho scritto senza avere nessuna nessuna come dire nessun ritorno da quello che io scrivevo no è stato semplicemente il coltivare caparbiamente e ritorniamo alla caparbietà di cui si parlava si parlava prima di coltivare caparbiamente una una passione nel tempo libero perché poi nel frattempo sapevo che avrei dovuto cercare invece un lavoro come tutti gli altri e cogliere le occasioni che mi si ponevano davanti e quindi va bene ho fatto scienze della comunicazione perché in qualche modo era una cosa nuova che mi portava nel nel complesso universo del raccontare salvo poi avere l'occasione di lavorare come educatore e scegliere di fare quello sia perché era anche quella una cosa che io amavo profondamente e in più semplicemente avevo l'occasione di farla professionalmente ecco allora è un po no all'incrocio di questa di queste idee dinamiche che poi uno deve cercare la propria felicità no è quel l'idea che uno possa trovare il punto d'incontro tra ciò che ama fare ciò che è bravo a fare ciò di cui il mondo ha bisogno e magari qualcosa per cui sarai pagato no per per farlo in quella direzione uno deve muoversi o perlomeno se questa è la risposta che do io ai ragazzi poi come dire se io non avessi pubblicato 13 anni fa il primo romanzo oggi probabilmente stare ancora lavorando in campo educativo mi sarei forse evoluto trasformato all'interno di questo campo oppure chi lo sa avrei cambiato tutto facendo altro come hanno fatto molti miei colleghi educatori ma nel tempo libero probabilmente starei cercando di scrivere un romanzo ok ma guarda paola scrive ci ha scritto una domanda che riguarda un po anche quello che ti avrei chiesto anch'io di provare un po raccontarci paola dice coltivare le passioni richiede tempo e impegno spesso i ragazzi sono impazienti e tendono ad abbandonare come possiamo sostenerli che è appunto quello che stavi dicendo tu sono passati vent'anni da quando io ero adolescente arrivo a pubblicare in quei vent'anni come come si fa allora da un lato sostenerli io io penso che sostenerli sia poi appunto la cosa più difficile nel senso che occorre tempo e passione è vero allora è evidentemente come dire no era tempo è tempo impegno e impegno giusto allora da un lato c'è esattamente bisogna difendere i ragazzi dalla estrema velocità con cui tutto viene consumato oggi questo è un chiaro problema del nostro rapporto col mondo attraverso le tecnologie che ci vengono messe a disposizione no c'è tutto è molto veloce posso mi annoio facilmente posso continuamente cliccare o cambiare qualche situazione se mi sto annoiando stare dentro eh una situazione a lungo e con pazienza sembra sembra stia diventando sempre più difficile no così come magari è sempre più difficile leggere in profondità un testo no e quindi passare del tempo dentro un testo magari complesso e cercare di decriptarlo smontarlo e capirlo io come dire c'è questo tipo di di come possiamo chiamarlo di allenamento no della pazienza e della contemplazione e dello stare fermi in un luogo penso che sia una delle cose che noi possiamo fare per sostenere i nostri ragazzi certo che deve essere qualcosa che però parta da molto prima cioè nel senso non può essere la la l'intervento emergenziale no c'è quando già ho un ragazzino un adolescente che non sa stare dieci minuti dentro la stesso discorso e allora lì è un problema bisogna che già dalle elementari dall'infanzia durante la pre adolescenza si trovino sistemi all'interno delle varie agenzie educative la famiglia la scuola la gesci le parrocchie tutti noi centri di aggregazione per accompagnare stimolare insegnare a far allenare i ragazzi a stare no a stare pazientemente dentro un'azione le strategie sono tante certo la seconda cosa è capire se come dire eh no allora mettiamola così al netto di questo quando io incontro un ragazzo un adolescente molto appassionato di qualcosa trovo che difficilmente lui fatichi tanto a stare dentro quella cosa lì però no quindi il problema banalmente potrebbe essere che certi ragazzi non sono appassionati di nulla questa è una cosa che a me come dire mette molto amo molta ansia quando ne parlo magari in situazioni di incontri pubblici con con loro chiedo no ma tu che passioni hai tu che passioni hai alcuni non sanno dirti una passione non sanno dirti a io passerei otto ore al giorno a leggere fumetti io passerei otto ore al giorno a scrivere testi rap no e a montarli su sulle basi io passerei otto ore al giorno a giocare a pallone io passerei otto ore al giorno ad accudire animali ok c'è qualunque cosa però dire cavolo io riconosco in me una una passione quindi io non credo che sia un vero problema accompagnare i ragazzi al coltivare una passione nel momento in cui la passione è riconosciuta il problema è quando hai davanti un ragazzo che ti dice ma a me non piace niente allora lì e wow che senso come come la mettiamo e allora lì il problema è l'esperienza l'esperienza vuol dire che io devo portarti a fare esperienza della vita devo farti provare 20 30 cose diverse sperando che almeno una di quelle che accenda certo bene faccio un appello a alla platea avete delle altre domande che se no io come dire una un bis non è un bis una domanda da fare come minaccia quindi se nessuno ha altre domande io faccio l'ultima io mi avvio fare la domanda poi se vengo interrotto da una domanda fulminia che interviene ci fermiamo allora la domanda è questa perché una domanda non so forse una una richiesta di dichiarazione di considerazione ritorno ai coccodrilli con con i coccodrilli io penso che tu ci hanno bloccato adesso questo momento allora è arrivata la domanda ci scrivono ciao secondo te come potrebbe essere utilizzato il mondo social per avvicinarsi agli adolescenti allora io credo che il mondo dei dei social network sia uno uno strumento e quindi di fatto sia uno strumento neutro che può essere caricato di esperienze positive così come può essere invece veicolo di strumenti di esperienze assolutamente assolutamente distruttive assolutamente distruttive il mondo dei social network può essere utilizzato io credo all'interno dei gruppi educativi soprattutto per lo scambio di esperienze e per lo scambio di stimoli ecco gli stimoli c'è può essere un luogo in cui si condividono frammenti no della nostra vita culturale delle di ciò che noi guardiamo di ciò che noi vediamo di pensieri può essere una specie di taccuino condiviso no di diario condiviso un diario di viaggio scritto da molti contemporaneamente e questo mi sembra in assoluto il modo migliore per per farlo detto così come dire senza avere un reticolo no dentro cui usarlo poi penso che a scuola nei gruppi formativi o che so con i figli ci siano poi problemi e strumenti diversi che si possono usare ma come dire non non sono così competente da da poter dare consigli specifici nei singoli casi sicuramente l'idea di costruire un luogo stimolante no dove ciò che lui vede l'adolescente vede entrandoci sono frammenti di realtà che lo spingono a coltivare curiosità questo mi sembra il modo migliore ora questo si collega anche un po la domanda che l'altra domanda che è arrivata in cui ci chiedono ti chiedono in questo periodo così particolare in cui gli adolescenti forse sono quelli che soffrono di più penso legato soprattutto alla questione scolastica di appunto di essere sempre a distanza eccetera la domanda è come star loro vicino eh non lo so non lo so non ho appunto siamo siamo troppo dentro questa strana situazione insomma almeno io mi sento ancora troppo dentro questa strana situazione per poter davvero capire che tipo di effetto avrà sui sui ragazzi è ovvio che un effetto ce l'ha una sofferenza c'è soprattutto nell'adolescenza dove il gioco della relazione mette prepotentemente in gioco il corpo no la fisicità il vedersi il toccarsi stare in gruppo questa distanza sicuramente crea una grande sofferenza non ho idea esattamente come fare forse parlarne banalmente forse nominare il problema ecco fosse in questo momento più che nominare il problema cioè prendere il problema e metterlo al centro della stanza no senza lasciarlo vagare come fosse un grande elefante che tutti fanno finta di non vedere forse questa è la cosa più più giusta da fare in attesa che la situazione si evolva e che poi come dire nei momenti in cui finisca è davvero speriamo che nell'arco di alcuni mesi noi si vada verso la riconquista di una di quella che era la nostra normalità a quel punto sarà interessante parlare di ciò che è successo ok grazie fabio io direi che ci siamo un po spinti nella nostra oretta che c'eravamo dati un po per chiacchierare grazie perché hai dato uno spaccato che che ti riguarda da vicino anche risposto delle domande che che ti riguardano da vicino anche sulla tua esperienza personale su come tu hai trovato questo futuro eccetera io do l'appuntamento a tutti quanti perché sapete che se anche tu fabio che abbiamo degli appuntamenti che abbiamo dato di un po di confronto con vari ospiti il prossimo sarà giovedì attenzione giovedì 3 dicembre che oggi venerdì magari poi uno si confonde pensa che siano tutti venerdì invece no sarà giovedì 3 dicembre sempre alle 18 però con il professor charme che è uno psicoterapeuta espertissimo di adolescenti quindi è uno sguardo molto più su lo specifico di chi sono gli adolescenti da parte di uno che li ha studiati e li continua a studiare proprio con tutte le misure particolari da un sacco di tempo quindi sarà un altro tipo di intervento che era quello che ci interessava portare grazie fabio per essere stato qui con noi in questa oretta grazie per quello che ci ha raccontato e grazie a tutti voi e speriamo di rivederci risentirci nei prossimi nei prossimi appuntamenti va bene grazie a voi ciao ciao a tutti ciao ciao